Fortuna che ho pensato di chiedere consiglio a lei. Pensi che figura avrei fatto se ne avessi portata trionfante a qualche amico? Convinto di aver fatto un affare. Per sentirmi poi dire che mi avevano preso in giro. E con molta meno grazia di lei. Non si deve vergognare. Lei certo non sarebbe stata l'unica al mondo a comprare un avorio di plastica o una porcellana di gesso. O una statuetta di Giada che si scioglie al calore del sole. L'hai comprata? Era un pezzo di cera, di cera compresa. Allora non è che io abbia salvato la reputazione di un intenditore? Non proprio. Ma adesso lasci che la ringrazio dell'aiuto. Se permette. Le vorrei... Avrei qualche altra commissione. Però accetto. Bene. La festa di mio marito quest'oggi. Se vuole può portare qualche pacchetto. Ah, senz'altro. Grazie infinito. È bravissimo a portare il pacchetto. È stato un piacere. E poi questo mi dà ora la possibilità di parlare con lei da solo a sola. Come dice? Scusi? So che sono venuto a Porto Emo. Per parlare con lei. Francamente non capisco. Ha creduto veramente a chi non sappia distinguere la porcellana dal cesso. O l'avorio dalla plastica. Io sono il padre di Armand. Oh! Io... Sono felice di conoscerla. Ostante le circostanze. Mi chiamo Margherita Coutinho. Lo so che è lei. È solo al corrente della relazione che ha con mio figlio. Armand sarà molto sorpreso. Mi dispiace ma... Non è a Porto Ercole oggi. È andato a... A Roma. Dove cerca di ipotecare quel poco che ha ancora per mantenere nel lusso le... No. Incoraggiato da lei, mio figlio si sta rovinando completamente. Ma questo non è vero. Io non ho mai accettato niente da suo figlio. Mi vuole forse far credere che mio figlio... ...l'aiuta a spendere il denaro che le passano i suoi amati. Guardi che lei qui è a casa mia. È l'avviso che non si sta comportando da genuomo. E allora? E allora la prego di andarsene. Grazie. No. Grazie.